buonasera per la rassegna di saggistica arte una storia per tutti questa sera l'autrice di questo incontro è storica dell'arte e discipline comparate ama girare il mondo sulle tracce di artisti scrittori temi rari inesplorati i suoi libri sono tradotti in molte lingue e qui con noi gloria fossi questa sera ci presenta il suo libro l'oggetto misterioso enigmi segreti viaggi nell'arte edizioni giunti dialogando con giuseppe capriotti professore associato di storia dell'arte moderna all'università di macerata l'evento che sta per iniziare si svolge con il contributo di reverde regini garden grazie buon ascolto pronto io spento buonasera a tutti allora per prima cosa io non posso negare l'emozione di presentare un libro di gloria fossi e quindi visto che un libro dove c'è tanta autobiografia posso dire anche qualcosa di me di quando ero un giovane studente quindi ero uno studente più giovane come sono tutti gli studenti e ero abbonato all'arte dossier perché mi piaceva essere informato mi piaceva proprio quel modo di fare storia dell'arte e per me gloria fossi era un mito era un mito e cercavo sempre le sue cose i suoi dossier quando c'erano i suoi dossier era una garanzia perché erano sempre bellissimi e non nego che qualche volta anche per preparare le lezioni all'università ho detto ma quella cosa che aveva scritto e fammi un po vedere le pagine di arte dossier e quindi è già già questo vi dice la insomma quanta emozione c'è nel nel ricevere una telefonata di marta paraventi che ringrazio e mi dice verresti a presentare il libro di gloria fossi io dico cavolo sto in kenia torno il giorno dopo e vengo quindi bellissimo ed è dopo questa emozione posso dire che è stato un bellissimo regalo ricevere questo libro leggerlo per parlarne oggi insieme all'autrice innanzitutto perché già il titolo l'oggetto misterioso l'opera d'arte è un oggetto misterioso tutte le immagini in realtà sono oggetti misteriosi ma l'opera d'arte ha qualcosa di speciale a prescindere dall'aspetto poi estetico quindi un libro sugli oggetti misteriosi per eccellenza l'opera d'arte è un oggetto misterioso e quando lo storico dell'arte approccia l'opera d'arte lo fa prima di tutto attraverso gli occhi e quindi gloria fossi io so che è una tua scelta guardate che copertina meravigliosa dove gli occhi sono gli assoluti ah ecco c'è anche lì gli occhi sono gli assoluti protagonisti perché l'occhio è il nostro strumento l'occhio collegato alla mente non parlo di attribuzionismo però è anche perché qui c'è molto molto di più e allora la prima vera curiosità è capire da da dove viene fuori l'idea di quest'occhio che guarda l'oggetto misterioso allora penso che nessuno abbia visto il libro dentro quindi facciamo subito vedere la seconda aspettate mi metto gli occhiali perché non vedo quale tasto devo eccoci qua come mai non va eccolo allora questi occhi vengono da qui è una mia fotografia che ho fatto al Louvre è una delle opere che amo di più del Louvre praticamente tutte le volte che ci vado ci vado spessissimo mi fermo sempre in quella stanza lo racconto un po' come un racconto di viaggio perché l'amo moltissimo proprio per questi occhi vedete che sono occhi azzurri fatti di lapislazzolo e la cosa singolare si chiama Ebi Hill di Mari era un intendente di una delle più antiche della più antica civiltà del mondo la civiltà di Mari in Mesopotamia nella famosa terra fra i due fiumi che poi è lui eccolo qua allora questa era un po' deformata l'immagine comunque questa è una statuetta alta così che ti guarda ti guarda in un modo assolutamente magnetico ed era un orante si chiamano così li abbiamo chiamati così a distanza di oltre 5.000 anni perché stava in un tempio a pregare che cosa significava significava che era un po' come una sorta di nemmeno un ex voto portavano queste statuette fatte proprio così tutte con le mani giunte e questi occhi sgranati straordinari che sembrano fissi e privi di espressione invece ce l'hanno moltissimo e li mettevano nel tempio quindi loro passavano le notti a pregare al posto di chi non poteva andare a pregare naturalmente quando il tempio era chiuso le hanno ritrovati sepulti dopo 5.000 anni vorrei essere l'archeologo perrò che li ha trovati negli anni 20 mi sembra del secolo scorso allora perché ho scelto questi occhi perché prima di tutto perché se vi capitasse di andare al Louvre andate nella sezione della mesopotamia si vede al piano di sopra vedete se si affaccia sulla cour carvée del Louvre perché è un'opera straordinaria non ci si ferma nessuno naturalmente io ho studiato a lungo la primavera del Botticelli che è uno dei quadri più famosi del mondo però adoro anche cose molto meno conosciute questi occhi dicono tutto perché sono lo sguardo che non è forzatamente appunto lo sguardo dell'attribuzionista noi storici dell'arte abbiamo questa pallino di ti mettono una foto davanti anche ai concorsi devi riconoscere da una mano se è caravaggio oppure battistello caracciolo che è molto meno conosciuto faccio per dire no gli occhi sono sono lo sguardo sul mondo e la cosa che mi ha colpito di più proprio in questi giorni io sono stata a lungo in namibia in africa e adesso alla benale di venezia c'è il padiglione della namibia che è uno dei paesi dell'africa australe occidentale immediatamente a nord del sud africa questo padiglione che è bellissimo ho scritto proprio in questi giorni un articolo su questo padiglione espone delle opere che un artista che non vuole essere nominato ha posto nell'immenso deserto più grande deserto del mondo che il deserto del namib e mi hanno mandato il teaser di questo di questo padiglione e è una cosa incredibile perché hanno scelto un fondo nero con due occhi che non sono azzurri come peraltro nemmeno gli abitanti della mesopotamia avevano gli occhi azzurri sicuramente semplicemente che avevano i lapis lazuli e le hanno messe azzurri perché così rimarcavano di più invece ecco in namibia in questo padiglione hanno scelto un filmato guardatelo in internet scrivete namibia pavilion e vedete questo teaser su youtube teaser stupendo che inizia sembra copertina del mio libro ma è un caso semplicemente perché è su un fondo nero e si vedono questi occhi allora fondo nero chiaramente in questo caso è perché sono persone di colore io che non credo assolutamente e spero che non ci creda più nessuno nelle razze perché la razza non esiste già stato dimostrato molte volte casomai nelle etnie ma siamo veramente tutti uguali quello che non ci distingue è proprio sono proprio gli occhi no che è la prima cosa che noi che ci aiuta ad avere un contatto con gli altri siamo partiti dal dal titolo e dalla copertina ma già siamo entrati dentro il libro dopo parlerò anche un attimo di come è strutturato il libro però rimango un attimo sulla copertina enigmi segreti viaggi nel bar viaggi allora perché enigmi segreti va bene no e nel senso che insomma certo che è un enigma ci sono segreti ma il viaggio è una cosa che davvero mi ha colpito in maniera davvero particolare e poi già le cose che hai detto me lo ha me lo hanno un po' confermato allora una storica dell'arte come te principalmente ha studiato il mondo occidentale anche per arte dossier sei famosa nota per quello e poi comunque nel libro in realtà viene fuori perché in realtà questo lo devo dire subito è anche un po' un libro autobiografico è un libro scritto da una storica dell'arte racconta in maniera accattivante tanti capolavori e tante opere anche che magari si conoscono meno ma in questo racconto c'è il racconto della storica dell'arte in azione quindi è un racconto sulla storia dell'arte ma anche di come la storia dell'arte viene praticata in maniera davvero originale e il viaggio è una chiave di lettura straordinaria in molte occasioni gloria racconta come è arrivata a questa cosa a vedere quell'oggetto misterioso e allora la mia domanda che mi interessa perché anch'io vado abbastanza in giro allora la dimensione del viaggio per uno storico dell'arte ovvio è importante vedere le opere quello è scontato lo devi vedere l'opera con gli occhi tuoi benissimo in realtà qui c'è molto di più allora spiegami il viaggio per lo storico dell'arte o il viaggio per gloria fossi storica dell'arte viaggio per lo storico dell'arte dovrebbe essere d'obbligo per quanto possibile poi adesso col covid abbiamo avuto una bella botta ma diciamo che una cosa è vedere un'opera d'arte su una fotografia o su un libro una cosa è vederla da vicino per opera d'arte ne intendo solo un quadro che è più semplice capirlo io sono allievo di Federico Zero il quale lavorava sulle fotografie viaggiava moltissimo peraltro moltissimo ho viaggiato anche con lui anche proprio nelle Marche però diciamo che un quadro puoi anche ammestiamo studiarlo attraverso una fotografia quando poi si entra nella scultura in altri ambiti della storia dell'arte un monumento poi parleremo magari di Stonehenge per esempio è molto più difficile cioè è un'altra l'approccio di fronte a un'opera d'arte dal vivo è un'altra cosa e questo è scontato non è detto che si possa fare per infinità di motivi economici di varia natura va bene allora la mia il mio approccio al viaggio è un approccio che ho nel DNA diciamo l'ho scoperto quando avevo 20 anni che ce l'ho nel DNA ma ce l'avevo già da prima senza saperlo perché ho ricostruito un po' la storia della mia famiglia da parte di mia madre la sto ancora ricostruendo ci scriverò un libro spero presto e ho scoperto che i miei avi erano tutti grandi viaggi grandi naviganti erano naviganti e hanno girato il mondo e li ho rintracciati in tutte le parti del mondo dalle Americhe allo Sudafrica eccetera però questo non significa non è sufficiente dal DNA posso anche dire una cosa a favore e a consolazione perché una volta ho parlato a un convegno avevo mille insegnanti davanti e sembrava un po' la Maria Antonietta che diceva non avete le brioche allora non avete il caffè no non avete il latte mangiate le brioche ma qualcosa del genere perché dissi che i miei viaggi dall'altra parte del mondo in Oceania soprattutto erano qualcosa che fatelo no dicevo così poi qualcuno si arrabbiò di ma io non ho soldi per fare va bene nemmeno io ce l'avevo eh me li sono messi da parte con grandi sacrifici ma non è questo il punto quello che volevo dire era che comunque ed è scontato viaggiare apre 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 la mente ok ma io posso dire a consolazione di chi non può viaggiare per un'infinità di motivi anche per esempio per una disabilità mettiamo no o per altri motivi qualsiasi che il viaggio più bello in assoluto io che davvero credo di aver viaggiato parecchio va bene eh sia il ricordo più bello che ho è quando eh ho avuto la possibilità di guidare un'automobile avevo 22 anni perché non avevo soldi prima per fare per prendere la patente sono montata in macchina da Fiesole Firenze insomma dove abitavo e ho fatto non più di 10 chilometri per andare alla Certosa del Galluzzo dove ci sono le lunette del Pontorme di un pittore manierista del Cinquecento in assoluto io credo che sia l'emozione più grande della mia vita quindi voglio dire un'altra un altro è pochissimo tempo fa appena prima del covid a due passi a tre chilometri da casa mia ero io passo purtroppo dei periodi chiusa in casa anche per sei mesi un anno per scrivere un libro veramente chiusa chiusa in casa e poi all'improvviso esco e magari vado dall'altra parte del mondo ma in quel caso ero chiusa in casa per un libro non mi ricordo quale e poi sono montata in motorino con lo scooter e sono andata a Reggello che ha 20 chilometri da Firenze col motorino per vedere vicino mi sentite ecco scusatemi scusatemi tanto per vedere un quadro di Masaccio che di cui ho scritto in questo libro peraltro che è un trittichetto che è ancora in un museino di campagna che io consiglio a tutti di andare a visitare quelli sono i due viaggi forse più belli meno pericolosi perché ho guardato fiume ho fatto un po come Rudyard Kipling Indiana Jones eccetera eccetera senza vanto di come ci sono trovata l'ho voluto fare perché volevo vedere certe cose l'ho vista e ho anche rischiato a volte ma non importa l'avrei fatto lo stesso quindi il viaggio per me è un viaggio anche della mente si può fare anche a tavolino va bene i miei viaggi li ho preparati a lungo anche un anno per andare in Oceania ci sono stati diversi mesi in più occasioni e ho studiato due anni perché andavo sulle tracce di Matisse non tanto di Gauguin ma poi anche di Gauguin ovviamente ma sono andata in un atollo sperduto di cui qui non parlo insomma il mio libro potrebbe continuare tra altri tre o quattro libri ecco questo è il viaggio per me va bene e per io vorrei i miei nipoti per esempio hanno imparato fin da piccolini a guardare un mappamondo che ho a segnare tutti i posti dove io ero stata e tutti sono diventati dei grandi viaggiatori questo per me è un emozione e anche dei bravissimi storici dell'arte dilettanti nel senso che magari uno è musicista l'altro è un'altra cosa però la conoscono la storia dell'arte quindi riuscire a comunicare questo per me è il massimo ora mi commuovo un po' perché mi ritengo molto fortunata sono molto fortunata per queste passioni anche perché c'è una cosa che dici nell'introduzione per una donna viaggiare era più difficile per un uomo sì allora qualche viaggio e c'è qui tra le righe l'ho fatto con un mio compagno di viaggi straordinario con quale ci siamo divertiti moltissimo però i viaggi più importanti più rischiosi se vogliamo anche perché li ho fatti da sola li ho fatti volutamente da sola e appunto in terre un po' estreme diciamo così e per una donna è più difficile io per esempio mi sono trovata in marocco un paio di volte in questo caso ero sulle tracce della mia famiglia che aveva vissuto lì in epoca coloniale e ho ritrovato i documenti perché sono anche un po' un topo d'archivio di biblioteca questo lo storico dell'arte è un altro aspetto dello storico dell'arte molto bello il viaggio in un archivio è una delle cose più belle che si possano fare va bene cioè tra le scartoffie dove ritrovi le micro storie di di vite incredibili di secoli fa oppure di vent'anni fa lo stesso ma insomma molto interessante allora in quel caso in marocco andato ero alla ricerca di un certo documento di una persona che era che era morta lì di tifo e che era la la prozia di mia madre che portava lo stesso nome di mia madre e l'ho trovato l'ho trovato e il signore che era davanti in questo archivio incredibile con le palle che giravano caldo terribile insomma in un paesino sperduto in fondo al sara e mi ha detto domani viene a prenderlo però viene a prenderlo a casa mia allora io ho imparato da lì tutte le volte che mi accadono queste cose mi è successo ai caraibi in tanti posti non è una questione di razzismo si può essere bianchi o neri anzi si sa che il femminicidio è più accade più in italia in occidente che altrove quindi non è quello il punto non è perché erano marocchini o erano erano uomini e allora ho mio malgrado mi sono inventata un marito che non esiste in una camera di uno di un bed and breakfast quello che era quello era un paesino sperduto nessuno ci credeva che fosse un albergo con il marito però ho detto io sono con mio marito mando lui a prenderlo non era vero che mio marito non c'era proprio non c'ho un marito quindi e così ho imparato spesso dico che sono con mio marito ci credono non ci credono non mi è mai successo nulla per ora però è difficile è difficile ancora nel ventunesimo secolo per una donna per esempio nei paesi arabi è molto difficile viaggiare è difficile viaggiare anche in polinesia ma non perché sono molto libre e tutto quanto ma ti guardano in un modo strano in aereo quando ero tra le isole tonga le samoa mi sembra nuova zelanda non mi ricordo uno mi ha guardato mi ha detto che ci fai tutta sola qua giù sull'aereo dico perché tutta sola cosa vuol dire no se fossi stato un uomo non me l'avrebbero fatta questa domanda no e con questo non sono un'eroina sono un essere umano donna uomo che sia che ama la vita ama il mondo ama le persone conti che racconti per arrivare a stone age e che è una delle parti diciamo forse più divertenti perché uno se l'immagine visualizza visualizza il racconto di questo viaggio perché sei andata a stone age proprio perché volevi vedere una cosa specifica adesso se ce la racconti allora voi sapete che pochi giorni fa era il sostizio d'estate il 21 di di giugno è il sostizio allora che la l'arte anche fin dai tempi dell'archeologia diciamo tempi molto remoti si guardavano le stelle forse più di adesso a parte che è un fratello astrofisico quindi sono ho imparato a guardare le stelle bene però insomma e molti monumenti sono stati anche nel medioevo anche nel rinascimento anche a firenze sono stati costruiti in modo tale che o nel sostizio di primavera o nel quinozio di primavera o nel sostizio d'estate insomma c'è un raggio di luce che quella quel giorno all'alba colpisce un certo punto sei stata anche ad agarchim sono andata anche a malta e sono stata soprattutto alle isole tonga che è esattamente l'altra parte della terra e vabbè allora sintetizzando al massimo a me questa cosa attira moltissimo anche perché appunto avendo un fratello astrofisico che secondo me è un genio e non ci capisco nulla anche se da quando eravamo piccini che lui era già fissato ci facevano guardare le stelle ci spaventava a morte con le storie dei lo scrivono raccontato anche nel libro con le storie degli ufo eccetera eccetera però quest'idea dell'immensità del di ciò che ci sovrasta mi ha sempre colpito molto e allora avevo deciso a firenze per esempio nella chiesa che è romanica di san al monte un raggio colpa colpire il 21 di giugno il piede di un mosaico di cristo nell'abside e sembra che ruoti perché la luce lo fa ruotare a santa merenovella lo stesso dovunque nel mondo nel mondo occidentale c'è questa cosa ma stonehenge è ancora una cosa più perché è un monumento preistorico la stessa cosa ancora molto più antica di stonehenge anche se stonehenge è il posto più famoso è nello will share in in inghilterra un paio d'ore da londra e anche all'isola di malta allora prima sono stata ma non mi ricordo più se prima o dopo sono stata ma vabbè sono andata per il equinozio di primavera a malta un anno e l'anno dopo l'anno prima a stonehenge quel giorno lì quella notte lì allora per andare a londra sono partita di notte perché bisogna arrivare prima dell'alba e sono partita con un pulmino questa volta avevo visto c'era un pulmino che mi ci portava piena notte freddo cane arrivo laggiù e ti trovo una massa di smandruccati incredibili io dico ma dove sono un inquietudine già stonehenge è un posto un po inquietante non so se qualcuno di voi c'è stato comunque abbiamo studiato tutti a scuola poi è veramente bellissimo in una piana così vicino a sosburi pianura proprio verde deserta ci passa una strada davanti ma insomma quello diciamo che è secondario e ti trovo ho anche le fotografie ma ne ho messe forse due l'ho fotografati erano una massa non tantissimo un centinaio di new new age new tutto vecchi più di me vecchi ex hippie o ancora hippie con il codino druidi erano fantastici uno era tutto vestito di tutti i dipinti di verde una una ragazza sembrava in trance coroncine di fiori una cosa anche di chi ci fanno poi effettivamente lo sapevo cioè è il neo druidi ci sono ancora è una una delle tante sette legate a movimenti del del cielo eccetera eccetera molto ippi molto insomma un po particolari devo dire però simpatici a modo loro molto simpatico vabbè io mi sentivo un po così dico che ci faccio qui come brusciato che ci faccio qui comunque ci faccio me ne sono messa un po in disparte li guardavo con giratondi canti deceltici bellissimi peraltro strumenti strani corni cioè di tutto a un certo poi è arrivato questo raggio ero stata prima a malta ecco a malta è impressionante perché a picco sul mare questo è un un tempio monolitico si sta tutti lì pochi ma lì ero con degli archeologi però qui era proprio degli sciroppati e invece a malta si aspetta in silenzio assoluto ti arriva dal mare questo raggio di di sole che spunta da dal cielo e va a colpire in una frazione secondo i brividi una pietra di questo tempio che ha mi ricordo ma penso forse 3000 anni una cosa del genere molto 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 interessante e vabbè invece qui arriva e questi ti cominciano a cantare cant una è andata in trance addirittura l'ho anche fotografato era lì sembrava molto poi un freddo cane vestiti come siamo ora d'estate no tutti di bianco mi sono divertita da morire non ci ho capito nulla di come funziona come funziona sonenge non si capisce perché sonenge è stata rifatta nei secoli cambiata eccetera però tutte le volte che ci scrivo nei manuali non mi riesce di spiegarlo comunque se vi capita andateci è bellissimo ecco quindi ecco questi sono davvero oggetti misteriosi per eccellenza quindi oggetti misteriosi e un libro costruito con tanti dettagli a un certo punto nella nell'introduzione dici proprio ho lavorato come un detective come povero esatto segue gli indizi no il paradigma indiziario quello proprio anche di chi si 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 assolutamente e poi quindi è molto molto bello leggere il libro perché molti di questi enigmi sono in realtà legati a dettagli no a quelle piccole cose che uno trascura che non vedi che ti devi mettere in modo preciso per vederli dopo spero ci racconterai anche quello però c'è un quadro dove ci sono dei dettagli no aver capito o non capito bene come funziona una scritta in un ritratto in un ritratto e quindi questo che ti chiedo di spiegarlo allora sì questa è una cosa che mi affascina da moltissimi anni da una ventina d'anni questo è un dipinto del bronzino pittore del cinquecento fiorentino pittore alla corte dei medici grande ritrattista grandissimo ritrattista grande poeta e lei è lucrezia panciati chi poi a pandana e agli uffizi c'è anche il marito vent'anni fa fatto un libro curato un libro sul ritratto con grandi storici dell'arte uno dei quattro ho scritto anch'io ma io la meno grande comunque questo l'aveva fatto mio collega alessandro cecchi che era studioso proprio del bronzino e me l'ha fatto notare lui non l'ho scoperto non solo non l'ha scoperto nemmeno lui ma se ne era già accorto uno scrittore come henry james e agli inizi del novecento grande scrittore anglo americano bostoniano ma poi naturalizzato inglese e anche una sua amica vernon lì che in realtà è uno pseudonimo di violet piaget che aveva vissuto molto a firenze allora qual è la storia storia si intreccia con la letteratura io spesso lavoro intrecciandomi con col romanzo mi occupo un po di discipline comparate letteratura anglo americana soprattutto allora cosa succede voi vedete questa bellissima donna un po' algida come sono come sono i dipinti maieristi di quel periodo a firenze e vedete questa ha una collana ora torna indietro un attimo perché così vede no scusate sono andata invece avanti allora questo è un cardellino che sta altro un altro cardellino eccola allora tanto per farvi capire ecco quella non è tanto la collana quanto la catena che è così no che ha il collo c'è scritto amour amour ritorniamo avanti così la rivedete se mi riesce eccola amour allora amour vedete che è spero che si capisca questa catena bellissima io darei forse qualche mese della mia vita per riuscire a vederla davvero questa catena nessuno è riuscito a rintracciarla forse non esiste più ma sicuramente esistita perché ne ho vista una simile in un dipinto bergamasco di quegli anni allora è come un parallelepipedo va bene c'è scritto amour ma sul lato di sopra c'è scritto ci sono cinque cinque parole amour due quattro scusate amour due son fan l'amore dura senza fine ma si può leggere anche due son fan amour e son fan amour due cioè una di quelle frasi che si può leggere in diversità allora quindi girando questa placchetta c'è scritto amour due son fan ma sopra c'è scritto fan allora perché tutte le placchette anche in modo diverso sono girate per cui ce ne sono più d'una in modo che ora non so qui dal quadro forse non si vede tutte guardate insieme fanno amour due son fan va bene allora è una frase d'amore bellissima allora c'è tutta una storia che ora è inutile insomma è troppo lunga da spiegare poi ne ho riparlato su arte dossier perché ho approfondito ancora qui avevo poco spazio per spiegarla tutta c'è un significato religioso anziché non è una dichiarazione d'amore ma pare sia una dichiarazione d'amore nei confronti di Gesù però al di là di questo quello che ha colpito una scrittrice come Vernon Lee era questa frase no quindi lei ha già scritto un racconto di fantasmi e ha ambientato la storia urbana davvero e lei è un fantasma che ha una bellissima ma uccide tutti quelli che si innamorano di lei e alla fine dice amour due son fan Henry James l'ha ripreso non so se avete magari non letto ma visto ritratto di signora e anche le ali della colomba riparla di questo quadro perché anche lui è stato molto a Firenze non l'uscita parla del bronzino e la trasferisce questa donna gelida molto algida che sembra quasi malata non lo è non lo sappiamo però che è morta giovane e la trasferisce una donna che è Millie Thiel che muore di tisi giovanissima e si ritrova a Venezia però tutto mescolato si ritrova invece che a Firenze a Venezia di fronte a un bronzino e dice lei era morta era morta era morta era morta no quindi come un quadro visto da me assumo significato visto da un altro ne assumo un altro e questo è davvero il fascino di questo libro prego prego fatelo questo applauso che è costruito con una in realtà sono una serie di schede che sono racconti che partono da un'immagine da un dipinto ma poi dicono anche tante cose anche perché o ci sono delle digressioni dichiarate sì assolutamente molto personal ci sono dentro i miei amori magari non sono non sono citati ma c'è la mia vita no è il libro che avrei voluto sempre scrivere ma che avrei voluto scrivere anche in modo diverso poi piegandosi a problemi esigenze editoriali di così che i libri non si vendono i libri non si leggono ho cercato insomma di renderlo più semplice più accattivante possibile però non è che l'ho costruito pensando quali sono gli enigmi nell'arte no quali sono i miei viaggi che mi hanno colpito di più quali sono le opere che ho studiato di più e che secondo me sono una parola che non mi piace ma sono intriganti e così e poi c'è la prossima perché c'è una 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 parte già il titolo rocambolesche avventure si un immortale cardellino se mi riuscissi ad andare avanti volentieri eccolo 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 qui anche lì darei qualche altro mezzo per vedere questo cardellino che per sapere che fine ha fatto questo povero cardellino perché vedete che un cardellino è un'opera famosissima si fa per dire ma insomma viene riprodotta spesso perché è delizioso un quadretto piccino così che al rex museum di amsterdam che è come si dice è legato a una catenella è un quadro di un pittore fiammingo caro il fabrizio che pazzescamente è morto nel nello scoppio di una polveriera nella sua città e questo questo qua è morto giovanissimo e sono pochissimi dipinti che si sono che si sono conservati suoi questo è uno di questi e non si sa bene che significato abbia perché un cardellino è una natura morta ma insomma è un po strano poverino lui è poverino perché io sono un appassionata animalista e è legato a una catenella va bene ora il cardellino lo sapete bambini vediamo bambino gesù raffaello la madonna col cardellino bambini nel nel 400 tenevano il cardellino legato ci sono anche nel 700 quadri di ogart di goia con questi cardellini legati no e vabbè si tengono ancora nelle voliere quindi però insomma mi fanno una gran pena lui in particolare mi fa particolarmente pena perché il cardellino veniva usato in in olanda nei paesi bassi con aveva una 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 sua dote che è quella che se gli metti un piccolo lo vedete forse insomma una piccola bacinellina d'acqua lui la riesce a far ruotare insomma fa delle cose strane no era un gioco un gioco non per lui poverino per chi lo guardava e questo quadro non so se qualcuno di voi ha letto o ha visto il film il cardellino di donna tart l'avete letto secondo me un libro bellissimo e non brutto nemmeno il film anzi molto bello secondo me l'ho riguardato cento volte e l'ho letto cento volte donna tart era una donna che ammiro moltissimo io non amo le biografie romanzate ma questa non è una biografia romanzata è un thriller che gira intorno a un quadro lei ha ricostruito una storia che è assolutamente inventata però quello che mi ha colpito è che mentre io scrivevo questo questo pezzo a casa mia in campagna avevo la finestra aperta ve lo giuro volevo sentire qual è il canto del cardellino perché non ero sicurissima io ho molti alberi di fronte a casa quindi sento tanti uccellini e mi ricordano l'africa quindi mi ricordano questi alberi dove c'è un ci sono dei concerti no di di tanti uccellini e però non sa non ero sicura quale fosse il canto dell'uccellino ora in internet si trova tutto nel suo youtube canto del del cardellino e l'ho sentito e ho sentito un richiamo che usano i cacciatori è arrivato un cardellino ve lo giuro questo un anno fa quando ho scritto un anno fa è arrivato un cardellino e la finestra era semi aperta proprio io sono rimasto chiamato la mia redattrice ho detto guarda giada poi giada riondino la figlia di davide riondino il musicista detto io non ho parole non ci volevo poi vabbè ti credo eccetera la mattina dopo l'ho trovato per la strada morto poverino perché aveva battuto contro il vetro probabilmente non lo so mi ha colpito enormemente allora ho ripensato a quello questo cardellino come è morto nello scoppio della polveriera anche lui era legato lui l'ha raffigurato legato perché ecco queste sono domande un po peregrine voglio dire però questo cardellino è esistito molti secoli fa ma è esistito e a me è colpito ecco così questa è la mia la storia di questo cardellino e in questa con questa spiegazione questo racconto ci hai un po portato anche il cardellino vero ecco ci hai portato anche un po nella dimensione sonora ah sì è vero sì sì me l'hai chiesta per ogni se leggerete questo libro vi consiglio di farlo per ogni in ogni opera ad ogni opera che tu racconti è legato è legato un'esperienza musicale allora mi è venuta così un po perché una parte della mia famiglia sono musicisti o musicisti assolutamente pop uno è ora adesso il produttore di brusilla che credo tutti conosciate insomma ha lanciato fedex jx quindi la parte più leggera della musica però insomma interessante ora fa anche scrive anche le compone le musiche quando canta brusilla e l'altro cotè invece è la musica classica mio nipote che è un pianista affermato e quindi la musica ce l'ho un po nel sangue come il mare queste due cose ce l'ho nel sangue quindi a me piace ascoltare la musica non è detto non so voi ma insomma io quando scrivo non è detto che possa sentire della musica a volte mi dà fastidio alle volte mi è assolutamente necessaria mentre scrivevo questi racconti ma l'avevo già fatto altre volte quando scrivo di arte mi viene in mente una musica no? e quindi ho pensato ho parlato con Matteo mio nipote gli ho detto guarda vorrei mettere questa cosa zia non lo fare è banale vabbè insomma sono un po naif no? la zia un po retro e quindi lo fa però ogni tanto ho chiesto a lui anche a sua moglie che è pianista pure lei ho detto che cosa sceglieresti per la primavera e loro mi hanno scelto dei brani assolutamente sconosciuti li ho messi sembro una grande esperta di musicofila in realtà quelli lì mai al mondo li avevo mai sentiti nominare va bene poi mi sono vantata con lui ah sì sì certo mi sono guardato su internet e l'ho messo e ci stavano bene altri li ho scelti io naturalmente sono quelli naif tipo amazing grace io lo adoro lo vorrei al mio funerale però voglio dire non è la tazza di tè di mio nipote va bene però ce l'ho messo lo stesso ecco e quindi però credo di averli messi in ogni in ogni così quindi se volete potete ascoltare quella musica secondo me ci sta bene magari per un altro ce ne sta bene un'altra anche Lucio Battisti non lo so ecco bene c'è un quadro che io amo molto di cui tu racconti la storia non solo l'amo molto io mi sono occupato anche molto di metamorfosi quindi appena ho visto questo quadro per me era il disco e la racchetta ma tu ma tu dici una serie di cose allora mi sono trovata a Madrid una volta e questa è la foto che ho fatto io da all'ingresso di questa grande stanza dove c'era un unico quadro un quadro bellissimo del tiepolo enorme l'ho messa semplicemente per farvi vedere che c'erano solo due persone che sono arrivate perché mi hanno visto distesa per terra poi vi spiego perché allora poi dopo si sono seduti anche lì ma che c'avrà questa da guardare che c'ha questo quadro di tanto e si sono piazzati lì allora sono uscite ho detto quasi quasi di fotografo e va bene allora sono entrata in questa stanza in realtà lo sapevo che c'era questo quadro perché è un tiepolo un quadro del settecento appena restaurato mi avevano invitato per fare per scrivere un articolo che scrissi all'epoca su arte e dossier mi sembra non mi ricordo e forse online e poi l'ho rielaborato ho riscritto di più in questo articolo in realtà io sono un ex tenista e il mio mito è Federer ma insomma e comunque sono fissata col tennis va bene e la cosa che che mi ha colpito enormemente di questo quadro e che ora vedete ecco è una racchetta da tennis ma anche le palline da tennis va bene ora ritorno indietro sulla racchetta perché la racchetta veramente sembra la mia Dunlop di quando ero ragazzina di quelle di legno ma in realtà lo erano cioè in tennis si gioca da molti molti secoli si chiamava pallacorda ma insomma però era molto simile si giocava sull'erba quindi Wimbledon per me è un mito proprio perché si giocava si gioca sull'erba allora io mi sono trovata lì e sapevo però che c'era la racchetta che c'erano le palline mi sono distesa per terra mi hanno lasciato fare tutto perché è un quadro enorme molto grande per cui la racchetta è in basso e quindi l'ho fotografata si vede anche la rete del campo da tennis perché c'erano le reti come quelle di ora allora la storia è abbastanza complessa quanto a metamorfosi perché detta in soldonia molto velocemente allora il tiepolo quando lavorava a Wusburg per la residenza del principe di Wusburg eccetera eccetera a fatto degli affreschi bellissimi gli fu commissionato un dipinto da un signore che aveva come amante un bellissimo musicista veneziano il quale giovane bello col quale giocava a tennis o a pallacordo a quello che era nel settecento il quale morì giovane allora il tiepolo che era un uomo che aveva un grande una grande ironia che non è l'ironia così un'ironia sottile che nasconde tante cose tanti simboli eccetera dipinto forse anche gli fu chiesto di raffigurare un qualcosa di emblematico di questo grande amore di questa morte così tragica allora lui raffigurò Giacinto che secondo il mito era l'amante di Apollo cioè Apollo era un dio Giacinto però era un essere umano sono i famosi amori degli dèi che si innamorano purtroppo di esseri mortali mentre gli dèi sono immortali allora in una partita in realtà non in una partita a tennis perché il mito viene dalle metamorfosi quindi di Ovidio non c'era il tennis allora c'era il lancio del disco che era uno delle era il disco, era una delle discipline delle olimpiadi di allora quindi loro giocano con il disco siccome Apollo era bello, piazzato bene, anche molto atletico lancia questo disco per gioco al suo amante Giacinto e lo becca in un occhio, una testa, non mi ricordo come e questo ragazzo bellissimo muore perché Giacinto era mortale muore, cade e Apollo è disperato infatti c'è un gesto bellissimo nel quadro, non l'ho messo, poi nel libro ci sono tutte le foto così molto ironico, anche molto teatrale, disperato tenta di riportarlo in vita ma non può allora dal sangue che cola di Giacinto nascono dei fiori che sono i Giacinti questa è la storia, cosa ha fatto il Tiepolo? anziché fare il lancio del disco fa il lancio il gioco del tennis e quindi Giacinto è colpito non tanto dal disco che era di metallo quanto dalle palline che non erano le palline di oggi che sono di caociu ma erano di cuoio, riempite anche di chiodi, credo insomma rivestite di cuoio però pesantissime e comunque non so se qualcuno di voi gioca a tennis ma beccarsi una pallina da tennis in un occhio non è che faccia tanto piacere c'è un mio amico che ce l'ha anche perso un occhio quindi voglio dire immaginiamoci di cuoio quindi muore lo stesso e si vede Giacinto che muore, il sangue che cola è molto teatrale, dietro c'è un satiro, insomma un bellissimo quadro ma la storia più complessa, io ho pensato ma guarda il tiepolo che bravo si è inventato questa storia, ha cambiato, ha mutuato il gioco del disco delle metamorfosi di Ovidio con il gioco del tennis non è così, cioè il gioco del tennis relativo a Giacinto è raccontato nelle metamorfosi tradotte da un pazzo scatenato del settecento del cinquecento scusa, del cinquecento già, che tu conosci bene e quindi era una storia già virata, metamorfosizzata dalle metamorfosi perché la metamorfosi di Ovidio è in questo, le metamorfosi raccontano tutte di metamorfosi quindi di trasformazioni di mortali innamorati di dei eccetera nel caso di Giacinto che diventa un fiore quindi è una metamorfosi già in Ovidio, è per quello che è inserito nelle metamorfosi in questo caso lui che ha tradotto il metamorfosi di Ovidio ci ha infilato dentro sta storia insomma è una cosa incredibile e è un manoscritto che è a Venezia tra l'altro bene si parla un po' di tutto questa è una storia bellissima questa di Giacinto con il tennis e le racchette allora c'è poi un altro pittore che io amo molto e che anche tu ami molto che ti ha portato a Tahiti ah sì certo che ti ha portato a Tahiti pittore controverso adesso di questo periodo tantissimo, me too è un casino sì infatti io dovevo scrivere io ho scritto un libro, sono andata sulle tracce di Van Gogh a lungo con due grandi fotografi uno è Mario D'Ondero che è morto, l'altro è Danilo De Marco 30 anni fa e l'ho ripubblicato due anni fa per HarperCollins in America allora e volevo fare la stessa cosa su Gauguin che mi sembrava anche più interessante visto anche se Van Gogh ormai è diventato un mito fin troppo mitizzato ma Gauguin lo è altrettanto dico sono stata d'altra parte della terra ho visto cose che non tanti hanno visto facciamo anche un libro su Gauguin e invece tabù in America Gauguin, le donne nude, guarda stava con le bambine niente da fare, non si può fare ma veramente? allora comunque è controverso per questo dicevi che è controverso allora in effetti in realtà io la prima volta che sono andata in Polinesia proprio a Tahiti non sono andata per Gauguin sono andata per Matisse che è una cosa meno nota non ho parlato qui ma che era stato un atollo sperduto di un arcipelago diverso da quelle nemmeno delle isole marchesi dove è morto Gauguin ma proprio un arcipelago a parte tutto di atolli meravigliosi deserti e lui era stato per un caso incredibile insomma Matisse era stato in questo atollo che si chiama Pacarava e quindi io ero andata per quello però non potevo non andare a cercare anche Gauguin quindi la seconda volta o la prima volta che sono stata in Polinesia poi sono andata anche sulle tracce di Gauguin questo quadro di cui poi parlo abbastanza proprio di questo quadro e basta perché qui cioè è difficile in un libro che è fatto di racconti parlare di tutto è meglio concentrarsi su un'opera eccetera allora che cosa mi ha colpito che cosa ogni tanto mi ha colpito in questi in questi oggetti misteriosi i viaggi che loro hanno fatto posso per vedere una cosa la mappa scusami se la fai vedere questo è il mio orgoglio dov'è? eccola qui scusami aprila un po' la puoi far vedere dunque questa è un'artista bravissima che me l'ha fatta e sono felicissima allora c'è il mondo che io ho girato c'è tutto il mondo ora poi che sono stata dappertutto per ognuno dei luoghi dove sono stata c'è il pallino con l'opera d'arte nel luogo esattamente dove sono stata allora la cosa che mi ha colpito allora questa è l'Australia l'Oceania è qua giù va bene l'opera di Gauguin ora non ci vedo nulla perché sono senza occhiali ma insomma mettiamo che sia qua va bene quest'opera adesso è a Londra al Courthold va bene quindi ha fatto tutto questo giro qua da laggiù dove era stata dipinta ma Gauguin stesso era nato a Parigi ed era andato prima in Polinesia poi era ritornato in Francia poi era ritornato in Polinesia poi era andato da Tahiti alle isole Marchese anche oppure più lontano dove era morto questo dipinto l'ha dipinto in un posto che si chiama Puna Uia nessuno per caso è stato a Tahiti non si sa mai magari in viaggio di noz vabbè no allora Tahiti è un'isola vabbè affascinante d'accordo allora e questo Puna Uia è un distretto lungo la costa eccetera molto selvaggio io ho messo delle foto mie che ora qui non ho messo e io ero curiosita di sapere dove l'avesse dipinto questo quadro l'ho trovato prima di tutto una foto negli archivi francesi questa è la capanna che ha cambiato molte case case capanne in quegli anni questa è una foto di Giulia Agostini che era un fotografo coloniale che stava a Tahiti che era colonia francese e questa è la capanna dove l'ha dipinto già questo mi interessava c'è un'altra foto dove si vede questa enorme tela perché è grande un'altra tela anzi non questa appoggiata così viveva in condizioni abbastanza estreme non c'è più questo posto però insomma ho fatto una grande ricerca alla fine ho trovato il posto dove l'ha dipinto e poi sono stata in quest'altro posto qua vedete la luce bellissima qui ci hanno fatto un museino su Gauguin ma non ci va quasi nessuno anche perché non hanno opere originali perché tutto quello che era di Gauguin se ne è tornato o in Europa o in America va bene io ho immaginato la storia di questa tela arrotolata affidata a un capitano della marina francese da Gauguin all'epoca perché andasse in Francia lui era spiantato ma qualcuno approfittava del suo talento per vendere già a Parigi e in Francia le opere le opere sue insomma ecco e quindi ho immaginato tutto il viaggio che questo quadro ha fatto che cosa ha sentito il fruscio delle palme che io conosco i suoni di di quei posti là poi il mare il viaggio attraverso il Pacifico poi il capo di Buonasera insomma finché è arrivato a Marsiglia poi l'hanno scaricato poi è arrivato a Parigi poi da Parigi l'ha comprato un tedesco un musicista tedesco famoso che poi se l'ha portato a Berlino da Berlino l'ha venduto e è andato al Curto a Londra per me anche questo è una cosa un po' interessante assolutamente assolutamente il viaggio il viaggio anche dell'opera no? eh sì quante cose ha visto se potesse parlare eh già eh già allora io penso dobbiamo abbiamo finito? sono già le 10 sono già le 10 non abbiamo tempo per parlare di un'altra cosa? no allora vi saluto non possiamo allora no c'era un va beh facciamola vedere se qualcuno avrà voglia di leggerlo esattamente troverà questo pomeriggio a Napoli di Gauguin di Cézanne che non è mai stato a Napoli anzi non è mai stato in Italia perché ha scritto pomeriggio ha dipinto questo quadro e l'ha chiamato pomeriggio a Napoli per saperlo per saperlo dovete assolutamente aprire non ho i diritti quindi non mi interessa se lo comprate perché non ci guadagno però mi fa piacere se lo leggete benissimo un libro che vi divertirà e vi farà fare un giro per il mondo attraverso gli occhi di una storica dell'arte che ha saputo raccontare le opere d'arte attraverso i viaggi fatti e non raccontare i viaggi attraverso grazie davvero grazie della pazienza da avermi ascoltato buonasera buonasera ringraziamo Gloria Fossi e Giuseppe Capriotti che insieme ci hanno presentato il libro l'oggetto misterioso enigmi segreti viaggi nell'arte ricordiamo che questo evento si è svolto con il contributo di Re Verde Regini Garden per concludere chiedo all'autrice di firmare una copia del suo libro per la biblioteca di Passaggi Festival Volenterissimo grazie ricordo inoltre che l'autrice è poi disponibile per firmare le copie in vendita al punto di librerie cop grazie